Dopo il lavoro portato avanti in questi mesi, dopo le tante sollecitazioni, le interrogazioni parlamentari e le lettere indirizzate al Ministero, l'Onorevole del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto, questa mattina ha effettuato un sopralluogo nel carcere di Pescara in compagnia del sottosegretario alla giustizia Anna Macina, che ha preso visione della situazione esistente all'interno del penitenziario. Era necessario che la sottosegretaria intervenisse e prendesse contezza di questa situazione con i suoi occhi. Come Movimento 5 Stelle siamo sempre stati attenti a questo problema, soprattutto negli ultimi mesi, quelli di luglio-agosto dopo le evasioni. Era importante intervenire, soprattutto sulla struttura fatiscente, che è visibile all'esterno così come all'interno dopo il sopralluogo fatto, e sull'organico purtroppo che consta di personale non sufficiente a prestare il servizio necessario. Quindi a tutela dei cittadini, del personale e anche dei detenuti stessi. Lo scopo della visita è stato proprio quello, vedere e rendermi conto personalmente della realtà che si vive anche nel carcere di Pescara, che sicuramente ha avuto degli episodi, tant'è vero che ci sono degli stanziamenti che sono stati fatti per il carcere, ci sono dei lavori di ristrutturazione che interessano il sistema di antiscavalcamento e l'allarme termico, ci sono delle opere che riguardano la portineria, insomma ci sono degli investimenti. C'è anche un reparto di telemedicina all'interno di questo istituto di pena che va sicuramente implementato. Di contro ci sono per esempio delle attività trattamentali che in questo momento sono sospese, tipo il calzaturificio, che è una bellissima realtà che però in questo momento è ferma e che va in qualche maniera fatta ripartire. In uno, diciamo, oltre a questo ci sono sicuramente un dato da tenere in forte considerazione, che è il numero elevato di detenuti tossicodipendenti, perché sono 170 mi hanno detto, e che quindi in qualche maniera condiziona la realtà di questo istituto di pena. Partendo dal presupposto che la tranquillità dei detenuti si riverbera oggettivamente sui lavoratori, gli agenti di pulizia penitenziaria che hanno e svolgono un compito fondamentale, tanto è vero che adesso, appena ci congediamo, li incontrerò per ascoltarli, proprio per ascoltare le loro osservazioni e la loro vita quotidiana all'interno di questo istituto. C'è anche una problematica di carenza di organico di agenti penitenziari? Sì, anche questo mi è stato sollevato come problema. La carenza di organico degli agenti di pulizia penitenziaria non fa parte, questo per onestà ho necessità di ribadirlo, non fa parte delle mie deleghe, perché la mia delega attiene al trattamento dei detenuti, ovviamente però essendo qui oggi l'incontro. È un discorso che riguarda gli istituti di pena in genere in Italia. Io però tengo a sottolineare un dato, che pochissimi giorni fa è stato bandito un nuovo concorso per agenti di pulizia penitenziaria e che nella scorsa legge di bilancio, e questo è un dato da tenere presente, nella scorsa legge di bilancio è stato autorizzato anche un concorso straordinario per coprire nell'arco di 3-4 anni altri 2.000 posti di agenti di pulizia penitenziaria e quindi nei prossimi 2-3 anni questi concorsi verranno banditi oltre a quelli ordinari che servono per il turnover. Quindi questi sono tutti i dati che noi oggi possiamo in qualche maniera commentare.